Questa festa ha perso un'altra partita. Che cosa sta succedendo a questo team? Come mai non c'è più? Io credo che sta soffrendo un po' di verticini. Ma come vincere? Tutto sommato la squadra è sempre la stessa. Quella K-Power questa volta abbiamo approfittato. Ma da quanto tempo non sentite Aenea? Non lo so. Forse la facevo dall'opera di spesso dopo. Non dovevano prendere, non so più. Chiamiamolo, chiamiamolo. Non c'è tanto la visita. Poi, non c'è tanto la visita. Non c'è tanto la visita. Anche anche a Roberto. Ciao Roberto! Lo so a posto? A Santoro eh! E noi teniamoci tutti a fine. Un saluto a Carrega che ormai ne prende da tutti i lati. E nè al telefono. E nè al telefono. E nè al telefono. E nè al telefono. Stiamo registrando la puntata di campo contro Volevamo sapere che fine hai fatto Eeeh guardavo i Bayern Bruciano queste sconfitte Le Bayern del Barcellona No no le vostre Ma no siamo ancora primi classifica Eh no a pari punti adesso Ma la voglia di volare o la voglia di volare A pari punti Con chi sono a pari punti Con 1926 Che stasera abbiamo stracciato Eeeh le abbiamo stracciate 9 e 3 L'abbiamo asfaltato In Italia c'è la cezzura Adesso Ti senti il fiato sul collo? Ma collo Chi ti è stasciato a fiamma Va bene Vuoi dedicare quella La tua sconfitta A qualcuno Un saluto da campo contro Ci vediamo in finalissima Ciao E' sempre con noi Non mollare Ciao Ciao